che poi diventeranno 50. Uno stato vero e proprio, insomma, che nasce da 20 anni di guerra civile contro il nord musulmano e arabo e che parte però dal fondo. In tutto il paese non c'è una sola strada asfaltata, a parte qualche chilometro nella capitale Juba, famosa per il soprannome di villaggio più grande del mondo. Gli indici di sviluppo e di povertà sono tra i più bassi in assoluto. Ma di certo il 9 luglio 2011 rappresenta per il popolo sud sudanese il punto di arrivo della lunga marcia verso la libertà, accostata due milioni di morti e iniziata sotto il comando di John Garang, il padre della patria morto dopo gli accordi di pace del 2005. Questa festa è dedicata alla sua memoria. Proprio lui che ha combattuto senza volere la secessione. Era per un sudan unito e laico, però è morto misteriosamente e adesso avremo un sudan musulmano dove vige la sharia con Khartoum capitale e un sudan animista e cristiano con capitale Juba. Non a caso, in mezzo, si continua a combattere e a morire. Jacopo Barbarello, Sky TG24